E' stata presentata ieri sera all'ex Collegio dei Filippini la giunta del sindaco di Agrigento Calogero Firetto. Cinque uomini e una donna collaboreranno col primo cittadino per migliorare le sorti della città dei Templi. Il ruolo di vice sindaco verrà ricoperto, almeno per un primo momento, da Elisa Virone del gruppo Agrigento Cambia, già coordinatrice della campagna elettorale di Firetto. A lei andranno le deleghe all'urbanistica, al decoro urbano, all'innovazione e smart city. E' intenzione di Firetto avere un vice sindaco turnover tra tutti i componenti della giunta. Nominato anche Beniamino Biondi, a lui le deleghe all'istruzione, all'infanzia, all'edilizia scolastica, al centro storico, all'università e alle politiche giovanili. Franco Micichedi, uniti per la città, ha invece ricevuto le deleghe alla Polizia Locale Sicurezza, Sanità, Balneabilità, Tutela degli Animali, Commercio e Artigianato, Sportello Unico. Ad occuparsi di bilancio, finanze e tributi di controllo di gestione, dello sport, dei sistemi informatici, dei servizi cimiteriali e dell'efficientamento, sarà il già direttore generale dell'azienda siciliana Trasporti, nonché dirigente dell'Acragas, Giovanni Amico. Il medico Gerlando Riolo, eletto anche consigliere comunale del PD, ha invece ricevuto le deleghe alla coesione sociale, ex solidarietà sociale, al welfare, all'immigrazione, all'integrazione e al volontariato. Da indiscrezioni pare non essere intenzionato a lasciare gli scranni di Aula Sollano. Infine il nome più discusso in questi ultimi giorni, ovvero Mimmo Fontana, attuale presidente di Lega Ambiente. Assente alla presentazione della Giunta per alcuni impegni a Roma, il neoassessore di Firetto dovrà occuparsi di ambiente, acqua, rifiuti, verde pubblico, agricoltura, quartieri e politiche energetiche. È stata una scelta, ha detto il sindaco Calogero Firetto, in piena libertà e in armonia con tutte le aree di riferimento. Alcuni sono stati scelti sulla base di esperienza pregressa, altri per capacità.